Barbacetto ho visto che ha fatto un'intemerata nei confronti di Bertolaso e la posso anche capire perché è chiaro che lì il problema dei Lombardi non è che sono andati alle crociate stavolta, hanno fatto una bruttissima figura, mi dispiace molto perché è la mia regione. Questo accostamento con Draghi mi è parso molto temerario e lei lo sa benissimo, dottor Barbacetto, e lo vedremo già giovedì al Consiglio d'Europa, ma secondo lei? Il premier italiano è in condizioni di farsi dettare la linea, ma chi ha assunto un'azione più robusta nei confronti delle cause farmaceutiche in Europa? Chi ha sollevato il problema eventualmente di bloccare l'export? Chi ha dato la linea perfino alla Merkel e a Macron? Quindi il non riconoscere questo vuol dire che c'è qualche cosa di pregiudiziale. Ora torniamo da lei Barbacetto.